Rifarlo adesso è la borsa porto accessorio di Mac 2, presente a pagina 112 del nostro catalogo. Si tratta di un piccolo astuccino con una pratica maniglia e una piccola pascareta esterna in cui possiamo riporre buona parte della nostra minuteria. Aprendolo tramite questo cerniere a colsore piuttosto largo, troveremo un divisorio che dividerà l'area minuteria con tre scatole asportabili fissate tramite velcro con un'ottima chiusura, con un o-ring, con una guarnizione in gomma che evita l'ingresso e la fuoriuscita di liquidi. Una a scompartimento singolo, una a quattro scomparti e una a otto scomparti. Girelle, ami, clip portapiombo, sia quelle nostre di Big Fish che quelle di Carpe Rass Leon, anellini, qualsiasi cosa vi può trovare al posto. Troviamo poi un tubo in plastica rigida, possiamo ottenere all'interno il pestello per le reti in PWA, degli aghi, qualsiasi cosa, basta andare a visitare uno dei tappi per poter estrarre quanto contiene. Sull'altro lato troviamo poi delle pratiche buste in gomma, che una volta chiusi ovviamente sigillano completamente la zona. Busta in gomma possiamo togliere per riporre in qualsiasi altra borsettina. Sono una, due, tre, quattro e cinque scompartici, stuccini, PWA, Protect Leader, sacchetti in PWA, terminali già pronti, LED core, vi può trovare al posto qualsiasi cosa, l'ES trovi forti ad inserirvi. Quindi è un pratico a stuccino che può completare comunque il corredo di minuteria di ogni carpe step. Borsa, portacessori, Mac 2.